Un campeggio dove si mescolano ogni parte d'Italia con le proprie tradizioni, le proprie aletti, quindi molto divertente. Da otto anni ormai è la meta preferita da studenti provenienti da ogni parte d'Italia per trascorrere una vacanza diversa fatta non solo di mare, sole e svago. Un vero e proprio meeting estivo durante il quale fino al prossimo 6 agosto oltre 2000 studenti, medi e universitari, si incontreranno per dibattiti su politica, cultura e impegno sociale. Cosa ti ha spinto qua? L'idea di partecipare alle attività dell'organizzazione, di conoscere altra gente, dell'UDS, di fare attività e imparare cose nuove. La cornice è ancora una volta quella del camping di Frassanito, a Dothranto, dove i partecipanti potranno trascorrere la vacanza programmata con una spesa di appena 12 euro al giorno. È un modello di turismo alternativo e sociale a prezzi bassissimi, che è radicalmente innovativo a livello nazionale, non esistono esempi diversi, considerando pure che si tratta di un'iniziativa completamente autogestita, autofinanziata dagli studenti per gli studenti. Questo è veramente un grande obiettivo che siamo riusciti a raggiungere anche quest'anno e siamo veramente felici anche che, come potete vedere dalle immagini, stiano continuando a fluire degli studenti giorno dopo giorno.